Una discussione pacata in una seduta d'assise prenatalizia. Consiglio comunale ieri nella città di Sarno. Approvati tra gli altri il regolamento per il testamento biologico, le variazioni di bilancio e l'esternalizzazione dei tributi minori. Si tratta di un'esternalizzazione dei tributi minori. Cioè i tributi minori non significa l'imulatasi e via dicendo, ma significa i passaggi pedonati, significano le affissioni, la pubblicità. Perché? Per un semplice motivo. Perché non abbiamo, grazie a quota 100, grazie a quota 100 noi abbiamo visto letteralmente depauperate le risorse del comune di Sarno. Così come è successo per tanti altri comuni e per tanti altri enti locali. Del resto i tributi minori sono appunto le tasse sulla pubblicità. Ma di questo stiamo parlando. Non mi sembra che fare una lotta contro l'evasione fiscale sia scorretto. Credo che fare una lotta contro l'evasione fiscale, anche se un'evasione fiscale è minima, sia perfettamente corretto. Ma d'altronde come già l'abbiamo denunciato in un documento sottoscritto agli organi di stampa e alla cittadinanza non solo, voglio dire, apertura e la riconferma alla leadership del nostro sindaco e quindi fermi in maggioranza, ma dare anche la possibilità di essere sempre partecipanti e nello stesso tempo ecco propositivi alle tematiche dell'agenda politica sottoscritta se mi si fa in campagna elettorale. Una cosa vergognosa perché questa amministrazione ha criticato l'amministrazione precedente per aver affidato questo servizio alla SOGET e in campagna elettorale ha promesso di effettuare il servizio di riscossione diretta attraverso gli uffici comunali. Oggi fa la stessa cosa, dichiara di vorrei affidare all'esterno questi servizi e molto probabilmente avremo la stessa cosa che è successa in passato. Avremo un aumento vertiginoso dei contenziosi con i contribuenti e con i cittadini. Ancora una volta i cittadini saranno a pagare le spese di tutto questo.